Lutto cittadino oggi a Casalbordino per i funerali di Giulio Romano, il 56enne deceduto nella tragedia consumata sia la Sabino o Esplodenti lo scorso 13 settembre. L'ultimo saluto ha avuto luogo nella Basilica della Madonna dei Miracoli, tra il cordoglio di numerosi amici, colleghi e compaesani. Giulio è ancora in vita, sarà accolto da Dio insieme ai suoi colleghi. Bisogna fare in modo che tragedie come questa non si ripetano più. È sconvolgente quello che è accaduto. Siamo di nuovo qui dopo soli tre anni a piangere altri padri di famiglia, mariti, uomini e professionisti. Rivolgo il mio appello affinché la Sabino Esplodenti venga riconvertita perché preservare il lavoro che da futura oltre 70 famiglie è importante ma non si può farlo in queste condizioni e finire per morire così. E questo quanto ha affermato nell'omelia Monsignor Bruno Forte. La comunità di Casalbordino si è stretta oggi pomeriggio al dolore dei familiari presenti con indosso la fascia tricolore i sindaci di Casalbordino, di Villa Alfonsina, Pollutri, Scerni e Palata, nonché i volontari della protezione civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino. A condividere il commosso ricordo un fratello. Giulio sei stato un grande, eri sempre pronto a qualsiasi cosa per aiutare tutti, eri circondato da amici, per molti eri un artista, purtroppo sei stato sfortunato, ricordo bene che dicevi spesso che avevi paura. Marinucci ha parlato esprimendo il dolore di tutta la comunità e sottolineando che i morti sul lavoro feriscono l'intera società. La salma è stata esposta nella basilica a partire dalle 10 di questa mattina per consentire l'ultimo saluto. Giulio lascia la mamma Anna, la figlia Lorenza e i fratelli Stefano e Luca. Grazie.